Benvenuti in un nuovo episodio di Lariatto, io sono Michele e oggi sono qua per parlarvi del quindicesimo capitolo di Bakagaijin, lo show organizzato da Chris Books e disponibile gratuitamente su YouTube. Qualche problema tecnico l'ho avuto questo volume 15 perché sono partiti con la diretta e dopo circa un minuto, un minuto e mezzo, hanno dovuto chiuderla, penso, per problemi di rete, sono riusciti a recuperare abbastanza velocemente con qualche minuto di ritardo, quindi potete andare sul loro canale YouTube e troverete probabilmente due video, uno da un minuto e uno da invece un'ora e mezza che è l'evento completo. Quindi nonostante i problemi tecnici iniziali sono riusciti a regalarci qualcosa di decisamente interessante con diverse chicche, già a partire dal primo incontro che ha visto Antonio Honda affrontare Dr. Wecky in un match molto divertente, non solo per noi ma anche per loro. Cioè in diverse occasioni hanno fatto veramente fatica a restare seri e conoscendo i due personaggi in realtà mi sarei stupito anche del contrario perché sono due completamente folli con un sacco di gag all'interno del match e fai fatica a restare serio. Soprattutto perché avevano una stipulazione che rendeva il tutto ancora più grottesco e particolare. Cioè è una stipulazione che abbiamo visto già un paio di volte in Gatto Move. In pratica ad ogni pin subito devi decidere da un piatto di bignè, penso si possono chiamare bignè, probabilmente hanno un nome più tecnico ma non lo so. Comunque ogni pin subito devi prendere un bignè da questo piatto e sperare di non prendere quello dentro del wasabi. Gli dai un morso e speri di beccare quello con la crema e mangiarti un buon bignè. Se becchi quello con il wasabi in realtà il match finisce e niente, hai perso l'incontro. Quindi è venuto a fare una cosa completamente folle con dei momenti nonsense tipici di Antonio Onda. Hai le barazzellette, hai i colpi proibiti di Antonio Onda ma hai anche Wecky che è un altro di quelli che tira fuori delle cose molto stupide e divertenti. Ad esempio la pistola, ecco lui aveva questa cosa, probabilmente avete visto anche la gif o comunque dei video, delle ispezioni, dei suoi match di qualche anno fa in Michinoko dove lui è appoggiato sul paletto con la pistola. Ecco, quel Wecky è quello che adesso noi vediamo in Bakagaijin. Ci sono un sacco di cose quindi nonsense ma sono perfettamente nello stile, nel mood di Bakagaijin che ci hanno insegnato un po' ad apprezzare in questi eventi, in questi 15 volumi di Bakagaijin. È stato un ottimo modo per iniziare questo evento e è iniziato con un match che è finito in pareggio di fatto perché entrambi hanno preso il bignere pieno di wasabi e quindi il match è finito in pareggio perché nessuno ha beccato quello con dentro la crema e quindi nessuno si è goduto il dolce. Entrambi hanno preso la roba piccante che poi, cioè, il wasabi non è piccante, molto di più. Quindi è anche complicato. Finito l'incontro però arriva Mechamammi pronto per il suo scontro con Mr. Bueno. Anche qua abbiamo una piccola perda. Bueno è un'aggiunta veramente interessante al roster di Bakagaijin. Funziona tantissimo sia come lottatore che come personaggio che come presa sul pubblico. Si è trovato molto bene con Mechamami. Anche qua hanno fatto una cosa un po' diversa dal tipico match che abbiamo visto fare dal robot. Con una parte più tecnica di wrestling a terra. Ovvio, la base è sempre quella del comedy perché lui comunque è un personaggio comedy con i pugni giganti, con le trevelle. Hanno usato dello spray. Hanno messo le solite cose tipiche di questi match ma hanno aggiunto qualcosina in più con qualcosa di anche inaspettato dal mio punto di vista. Il match va a favore di Mr. Bueno ed è giusto così soprattutto perché lo stai costruendo secondo me anche per fargli fare qualcosa di un po' più importante in futuro. Ha faticato però decisamente tanto a portarsi a casa la vittoria. Quindi si è dovuto a un certo punto anche appendere al soffitto imitando di fatto Spider-Man. Anche qua un ottimo match che continua, come dicevo prima, la costruzione del personaggio di Mr. Bueno e sono curioso di capire come andrà avanti la sua run all'interno di Barkha Gaijin. Ma sono stato contento anche di vedere un Mechamami che cambia stile, cambia modo di lottare in base all'avversario che si trova davanti. Quindi sono curioso di vedere come andranno avanti le cose per loro due. C'erato i lottatori della DDT in forza ai Kamina, nello staff, e si è poso uno schiaffo con Guanto da parte di Bueno. Quindi vediamo se avrà delle ripercussioni sul futuro, sui prossimi eventi. Comunque la curiosità è tanta per il futuro di questi due lottatori, così come era tanta la curiosità per il match successivo che ha visto Mao battere un Agisayaka. E fin qui tutto bene. Voi vedete Mao che batte un Agi e dite, vabbè, ci può stare. Ecco, il problema è come si è presentato Mao. Cioè, una delle ultime volte l'abbiamo visto in una versione di Orange Cassidy, con un cosplay di Cassidy. Stavolta invece era nella versione Tam Nakano, quindi, o meglio, Tam-Igashi-Nakano, ecco, si è definito così. L'attire era perfetto, era quello tipico di Tam Nakano. Le movenze erano quelle, compreso i saluti al pubblico che fa normalmente Tam quando entra sul ring in Stardom, ai movimenti kawaii tipici della lottrice della Stardom che inserisce durante l'incontro, ha delle movenze proprio sullo stile kawaii che Mao ha ricopiato e ci è riuscito piuttosto bene. Unagi mi sembrava veramente sorpresa di questa cosa, non so se è stata molto brava a recitare o se effettivamente non sapeva bene cosa aspettarsi, quindi quando si è trovata davanti un Mao in questa veste, probabilmente ci è rimasta anche un po' male, non sapeva bene come prendere il tutto. Sono comunque super fan di Mao, lo sapete se seguite un po' l'Ariatto, poi quando mi fa queste cose, cioè io impazzisco, soprattutto perché inserisce delle cose che sono parte del moveset di Tam e il tutto riesce piuttosto bene. Anche qua hanno fatto alcune situazioni piuttosto interessanti, divertenti. Unagi siccome si sta togliendo diverse soddisfazioni da quando è uscita dalla Stardom. Sta diventando più interessante come lottatrice, più interessante come personaggio, si sta divertendo molto e quindi va benissimo così. È migliorata su diverse cose e mi fa molto piacere in realtà perché ha preso diversi push in Stardom quando probabilmente non era ancora al 100% come lottatrice. Adesso, con tutto questo periodo all'interno delle varie promotion più indipendenti o comunque meno mainstream, si sta prendendo diverse soddisfazioni. In questo caso hanno tirato fuori un paio di mine non indifferenti, rischiando anche di colpire il pubblico, però va bene così nel senso che te che fai parte del pubblico dentro, soprattutto a uno show come quello di Bakagaijin dove sei apparentemente in un buco, perché l'arena, il bar dove fanno Bakagaijin è veramente un buco, hai questo materassino dove fanno i match e te sei attaccato al materassino. Quindi è ovvio che magari qualche mossa che non va completamente a centrale l'avversario magari ti arriva un po' più vicino a colpire te che fai parte del pubblico. Quindi va benissimo così. Unagia ha fatto anche una cosa che è un po' old school, possiamo dire, ma è sempre molto bella dal mio punto di vista. È una cosa che avevo apprezzato molto all'epoca con Oedo Tai, cioè il nastro elastico. Pente, tiri l'elastico e quando lo molli finisci in faccia all'avversario. È una cosa tipica di Oedo Tai di qualche anno fa, quando c'era Chris Wolf. È una cosa che si portava avanti all'interno di tutti gli incontri. Avell'ho visto anche all'interno di Bakagaijin, mi ha fatto piacevolmente piacere. Pacevolmente piacere, non so se si può dire, però avete capito quello che volevo dire. Ma ho battuto un aghi e quindi sì, va benissimo così. Non si sono risparmiati ed è la cosa divertente. Hanno fatto il meglio possibile per il minutaggio che avevano, che è intorno ai 10 minuti. Sono andati abbastanza pesanti, anche sui colpi, perché abbiamo avuto diverse mosse ben riuscite, diversi schiaffoni, colpi ben assestati. E quindi hanno avuto anche qualche intuizione, siccome è tirata fuori un po' dal cilindro, che ha cambiato un po' il ritmo dell'evento dopo la pausa avuta dopo i primi due match. Cioè i primi due match che sono un po' più sul comedy e va benissimo così. Hai la pausa dove ti rilassi, prendi da bere, aspetti un po', fai un giro per vedere cosa c'è all'interno del locale. Quando ricomincia si è switchato qualcosa ed è cambiato effettivamente l'evento, tirando fuori un ottimo match tra Mao e Unagi e alzando un po' il livello in vista poi del main event. Main event che è una bomba, dal mio punto di vista sono 20 minuti di mazzate tra due tag team che sono bellissimi da vedere sul ring o in questo caso sul tatami. Riescono sempre a mettere quel qualcosa in più nella competizione e alzare il livello dello show. Era la prima volta che si trovavano faccia a faccia e siccome hanno fatto un lavorone, cioè Chris Brooks aveva già lottato contro gli astronauti di Fuminori Abe e Takuya Nomura, se non ricordo male, era in Big Japan, in coppia con Drew Parker, doveva essere così. Se mi sbaglio, se mi sono sbagliato, fatemi sapere poi nei commenti se ho cercato qualche nome. Comunque era la prima volta che i Kanamari Trunk and Kings, quindi sì, Chris Brooks, ma in coppia con Masayiro Takanashi, lottavano contro gli astronauti. Il match è finito in pareggio dopo 20 minuti e è un incontro che vi consiglio caldamente di recuperare al più presto. È lì che vi attende su YouTube, voi andate, recuperate il quindicesimo volume di Bacca Gaggini. In realtà vi consiglio di vederlo tutto, però se non avete tempo di vederlo tutto, il main event è sicuramente la chicca, la ciliegina finale, che rende il tutto ancora più interessante. C'è dentro della tecnica, c'è dentro dello strong style, della parte un po' più comedy, hanno della rapidità, degli intrecci veramente interessanti. C'è di tutto, sono 20 minuti pienissimi con dentro veramente di ogni. Sapevo che poteva venire fuori qualcosa di bello, soprattutto visti i lottatori coinvolti. Non credevo qualcosa di così bello effettivamente, perché è tutta gente che non si tira indietro con una visione molto precisa in realtà di quello che devono fare e una velocità di esecuzione allucinante. e non solo quella di esecuzione, ma anche di intuizione sul capire, sul cogliere il momento per cambiare magari alcune situazioni, per trovare l'accounter interessante. È tutto molto bello, cioè dall'inizio alla fine ti godi uno spettacolo, praticamente con questo incontro. Non ho molto altro da dire, perché sono solo cose positive, che poi è anche la parte bella. Hanno fatto veramente qualcosa di nuovo e innovativo, hanno cambiato completamente marcia all'evento, rendendo in realtà uno di quelli probabilmente più belli nel suo insieme, questo volume 15. È sempre interessante perché ogni volta che c'è uno show di Bakagaijin, ci aggiungono quel qualcosa che in realtà lo rende unico, ed è la parte bella del lavoro che sta facendo Chris Brooks con questo progetto. Detto questo, io non vedo l'ora di vedere come proseguirà il movimento di Bakagaijin, spero di poter rivedere presto in realtà sia Abe che Nomura, perché sono veramente delle bestie, sia nello striking che nella tecnica. Hanno uno stile molto sullo shoot wrestling, l'avevamo già parlato anche di quando hanno fatto quell'evento che è disponibile sulle Wrestle Universe, in cui si erano affrontati e avevano tirato fuori delle cose molto molto belle. Io spero di avervi invogliato a recuperare, anche con calma, non vi corre dietro a nessuno questo show. Lo trovate gratuitamente sul canale YouTube di Bakagaijin, è lì che vi aspetta. Vi ringrazio ancora per aver seguito questo episodio di Dariatto, io sono Michele, una delle voci del Lato Viola del Ring, vi ricordo di lasciare un like e di commentare se avete visto lo show, se avete intenzione di vederlo, se avete qualche dubbio magari su qualche lottatore, per capire un po' cosa ne pensate. I commenti sono qua a vostra disposizione. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima.